salve a tutti madre e misteri guardate che apertura rare che ho oggi benvenuti a una nuova puntata qui sul canale finalmente è giunto è giunto il giorno della rubrica di cui nessuno aveva bisogno ovvero che si chiama domande del che ha risposte di me quindi da già l'idea di che cosa si tratterà risponderò finalmente a tutte le domande che mi avete fatto non sono tantissime per fortuna quindi il video sarà coinviso e sarò concisa anche io sperando che le prossime domande del ca siano ancora più del ca ho cercato per mezz'ora di trovare un po la quadratura del cerchio e di trovare soprattutto a telecamere ho scoperto qual è il mio lato migliore tra quelli peggiori ma andiamo avanti con l'aiuto di computer la per chi se lo stesse chiedendo la giuendina di sant'antonio è sempre con noi passiamo in rassegna alle domande che mi sono state poste sul primo canale quindi parliamo di due mesi e passata un mese fa la prima domanda trasporto da istanbul a londra come organizzato la tua collezione make up ricordo molto ricca ero più preoccupata per i tuoi trucchi per gli oggetti preziosi malattie da make up addicted allora cara tiziana deve dire che prima di andarmi nel frattempo scrollo un po avanti per vedere le altre domande per quel che concerne la mia collezione l'ho molto molto limitata penso che circa un terzo della mia collezione è rimasto in turchia dopodiché ho preso gli essenziali quando mi sono trasformata si in power ranger in pokemon ho preso un terzo della mia collezione con me quando sono andata a napoli e un terzo è rimasto in turchia quindi di tre terzi uno se n'è andato meno male che non ho eliminato in questo a questo sto parlando da sola comunque un terzo eliminato e donato un altro terzo è rimasto in turchia e un terzo è venuto con me le cose che ho tenuto a cui tenevo di più è venuto con me prima a napoli poi a londra dopodiché dopo un anno sono ritornate in turchia e ho perso ho preso anche quell'altro terzo che è stato declatterato ancora di più quindi tantissime cose non ce l'ho però ho ancora una consistente collezione di makeup contavo l'altro giorno c'ho 56 palette quindi è rimasta abbastanza palette occhi ma andiamo avanti che fine ha fatto la tua torre del makeup di ero stetici ancora si è tornata con me è venuta con me al secondo giro mi sa e dopo ve la faccio vedere è sempre lì perché se muovo la macchina è la fine del mondo questo me lo chiedeva serenis andiamo avanti tutti che mi dite bentornata bentornata adesso non penso si tessate dello stesso perere guardate i capelli bianchi come sono belli bellissimi poi andiamo avanti perché bene o male le domande vertono sempre sulla stessa cosa ovvero del se pensavo anche al mio ritorno in italia un attimo io sto seguendo voi che dite come state mi raccomando nel non nell'info box giù mandatemi altre domande un poco più divertenti dato anche la natura dei tempi spero siete tutte bene che le vostre famiglie siano bene mi chiede la cara mil cofi che amo tantissimo hai mai valutato un ritorno in italia no il ritorno in italia risa in realtà io non l'ho mai valutato per un semplice motivo io mi sono laureata in lingue nel londano 2010 quindi che la vecchiarda nel 2010 e già lì mi sono trasferita in turchia con lo scopo di rimanerci un paio d'anni per fare poi per poi ritornare fare il dottorato la vita mi ha portato su altri lì di su altre sfonde e quindi non mi sono mai trovata nella situazione di dover cercare lavoro in italia quindi devo togliere il volume qua qua sarebbe il computer quindi non ho mai in realtà valutato un vero ritorno in italia poi andiamo avanti vendino signori vengono ok al poi anche nina red mi chiede come mai hai scelto la turchia e cosa ti ha fatto scegliere londra e torneresti in italia allora io 15 ricolleghiamo anche alla stessa cosa io in turchia sono andata perché ho studiato turco all'università mi è piaciuta tanto la lingua e ho proprio investito dieci anni buoni della mia vita lì mi ha fatto prendere la decisione di non torna di lasciare la turchia perché volevo entrare nel mondo della cosmetica però sempre a livello della di a livello di ufficio perché ultimamente nella mia società ha ricoprivo il ruolo di customer service manager e brand manager per una società che si occupa turca che si occupava di vendita di prodotti chimici continua ad esserci stucazzi virus nel nel computer comunque lavoro non mi rendeva più felice ho provato a trovare lavoro in cosmetica in turchia noi ci sono riuscita quindi andarmene in america sarebbe stato un po troppo difficile e ergo mi sono mossa a londra e quindi ad aprile saranno già tre anni e la cara caserina mi chiede che lavoro fa a londra e come vissuto l'uscita dalla comunità europea allora che lavoro faccio a londra senza darvi troppi dettagli ma non perché voglio fare una donna del mistero ma ci sono delle policy della mia compagnia lavoro in cosmetica mi occupo di profumi e sono team leader al momento di una importante compagnia cosmetica però non faccio niente di che vendo i profumi voglio stiamo adesso progettando di stiamo adesso progettando pululare mai stati si io dopo che finisce tutta questa ragazze situazioni del coronavirus vediamo un attimo come il mercato e vediamo di fare il jump di fare il saltone in ufficio tipo la palla del cannone il come è vissuto l'uscita dall'unione europea non lo so ancora come si metterà la situazione ci sono tante variabili nel momento al momento noi siamo ancora in comunità fino alla fine dell'anno essendo venuta in a londra in inghilterra tre anni fa non ancora la situazione di residenza permanente qui ma se mi mettono a calcio in culo ce ne andiamo anche dall'inghilterra che dobbiamo fare altre domande no le domande sono finite non abbiamo neanche sprecato dieci minuti del nostro tempo io vi invito per la terza volta scrivetemi domande anche più divertenti qui sotto e a cui risponderò con tante simpatie e poca mestizia io i miei capelli bianchi su trucco che proprio alle gristime la torre dei trucchi che vi farò vedere tra poco vi teniamo vi terremo compagnia se ce la facciamo ogni martedì visto che non abbiamo un da fare visto che anche io da una settimana sto a casa come tutti voi e al prossimo video venerdì se avete anche qualche richiesta di video e posso farlo ha lasciato qui di sotto e se volete seguire condividere amare e apprezzare come sempre il momento colletta e dentro di noi un bacio forte alla prossima ciao ciao per chi se lo fosse chiesto la mia torre dei rossetti è sempre qui ne mancano alcuni perché li devo ancora mettere a posto dopo un ultimo decluttering ma eccola che gira sempre gira gira la ruota gira sempre lei e vi saluta ciao ciao